Scende in campo anche il Codacons in merito all'incendio verificatosi al serbatoio 513 della raffineria di Milazzo nella notte del 27 settembre scorso. L'associazione ha presentato un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto tramite l'avvocato Carmelo Sardella dell'ufficio legale regionale. Secondo il Codacons dall'incendio trasparirebbero in adempienze responsabilità nella violazione della normativa vigente in tema di attività di prevenzione. In particolare il Codacons rivolge la sua attenzione all'informazione capillare che dovrebbe essere data alla popolazione in attuazione della direttiva Seveso e che secondo l'Associazione dei consumatori non sarebbe assicurata. Particolare riferimento viene fatto ai piani di emergenza esterni che devono prevedere ogni singola azione atta alla prevenzione del danno da incidente industriale. Secondo il Codacons in Sicilia sembra che non esistano piani di emergenza esterni o che non siano stati aggiornati come prevede la legge. L'Associazione indica come responsabili la regione per le attività di indirizzo e coordinamento, i prefetti che curano l'approvazione e l'aggiornamento e i sindaci che devono informare i cittadini. Alla procura il Codacons chiede di verificare il rispetto delle normative di sicurezza vigenti non soltanto per la raffineria di Milazzo ma anche per tutte le altre raffinerie presenti sul territorio siciliano.